Lavoro e sociale sono i settori dove maggiore è stata l'impronta della Lega nell'amministrazione del sindaco Masci ed in consiglio comunale, tra l'altro preseduto dal leghista Marcello Antonelli. Vincenzo Dincecco, capogruppo Lega in regione, si dimette da capogruppo e consigliere comunale di Pescara e con tutta la squadra del Carroccio traccia un bilancio dove spiccano le stabilizzazioni dei precari in comune e nelle partecipate, gli investimenti senza precedenti nelle politiche sociali, ma anche nella pianificazione delle manutenzioni stradali che nei prossimi mesi i pescaresi potranno percepire e il potenziamento dei sistemi di sicurezza in città, oltre che del personale di polizia municipale. C'è poi il capitolo cultura, ma è così vivace in città, e qualità della vita a partire dalla bandiera blu, un modello che in questi giorni il sindaco di Messina è venuto in città per conoscere e limitare. Tante cose abbiamo fatto, a volte non si è in grado di metterle tutte insieme nella narrazione, oggi è anche un modo per ricordarle. Per i media non sarebbe stato sempre idillico il rapporto con il sindaco Masci e con gli altri partiti. Cosa accadrà in quest'ultimo anno? Io dico, e l'ho detto in sessione di bilancio nel mio intervento, che il sindaco Masci deve essere orgoglioso di aver avuto una maggioranza fino ad ora, e credo anche nell'ultimo anno, compatta su tutte le votazioni più serie, più significative. Se andate indietro con lo sguardo e vedete agli anni, alle precedenti amministrazioni, vi renderete conto che non c'è stata un'amministrazione che abbia mantenuto una linearità in termini di presenza in giunta, in termini di presenza in consiglio comunale, di votazioni senza spaccatore, come questa. Noi abbiamo approvato due bilanci fino ad oggi, i primi due bilanci entro il 31 dicembre, una cosa praticamente mai vista. Abbiamo sempre approvato i bilanci senza nessun emendamento di maggioranza, cosa mai vista nei precedenti dieci anni in cui sono stato in consiglio comunale. Io penso che la narrazione di una maggioranza divisa non esiste, è una maggioranza sempre compatta. Certo, in quattro anni di mandato, su alcune questioni amministrative, ci è stato un confronto che poi abbiamo sempre serenamente risolto all'interno dei tavoli di maggioranza senza problemi andando in avola a votare compatti. Quindi io credo che Pescara abbia avuto in questi quattro anni la maggioranza più solida e granitica che abbia mai avuto negli ultimi 15 anni e di questo penso che posso essere un pochettino artefice anche io nel ruolo di capogruppo del primo partito di maggioranza.